Il richiamo di Cthulhu di Howard Philip Lovecraft Parte seconda Il racconto dell'ispettore Legrasse Le vecchie storie che avevano reso il sogno il basso rilievo dello scultore così significativi agli occhi di mio zio costituivano il soggetto della seconda metà del suo lungo manoscritto Già una volta, a quanto sembra il professor Angel aveva visto l'infernale forma dalla mostruosità senza nome si era scervellato sugli sconosciuti geroglifici ed aveva udito gli orrendi suoni che si possono trascrivere solo con la parola Cthulhu Tutto ciò in un contesto così impressionante ed orribile che non c'è da meravigliarsi se incalzò il giovane Wilcox con domande e richieste di dati Quest'esperienza precedente era avvenuta nel 1908 17 anni prima, quando l'American Archaeological Society aveva tenuto la propria riunione annuale a St. Louis Il professor Angel, come si conveniva ad una persona della sua autorità e della sua cultura aveva avuto una parte preeminente in tutte le discussioni ed era stato uno dei primi ad essere avvicinato da parecchi non addetti ai lavori che avevano approfittato della riunione per sottoporre domande alle quali ricevere risposte corrette e problemi per i quali ottenere soluzioni esperte Il più importante di questi non addetti ai lavori nonché il centro dell'attenzione di tutta la riunione fu un uomo di mezza età dall'aspetto comune che aveva lasciato spesso la natia a New Orleans alla ricerca di informazioni particolari che non si potevano ottenere da nessuna fonte locale Si chiamava John Raymond Legrasse e di professione era ispettore di polizia Aveva con sé l'oggetto della sua ricerca una grottesca, repellente e antichissima statuetta di pietra la cui origine non era riuscito a stabilire Non si deve credere che l'ispettore Legrasse nutrisse il benché minimo interesse per l'archeologia Al contrario, il suo desiderio di spiegazioni era provocato da considerazioni puramente professionali La statuetta, l'idolo, il feticcio o qualsiasi cosa fosse era stata sequestrata qualche mese prima nelle paludi boscose a sud di New Orleans durante un'incursione della polizia del luogo nel corso di una supposta riunione voodoo e così singolari e orrendi erano i riti ad essa connessi che i poliziotti erano riusciti solo a stabilire di essersi imbattuti in un misterioso culto a loro sconosciuto e infinitamente più diabolico perfino dei più cupi circoli voodoo africani Delle sue origini, a parte le storie deliranti e incredibili e storte agli arrestati non si era scoperto assolutamente nulla Da qui l'ansia della polizia di trovare una qualche teoria archeologica che aiutasse a identificare quel temibile simbolo e attraverso esso rintracciare il culto alla fonte L'ispettore Legrasse non era affatto preparato allo scalpore che destò con la sua richiesta Una sola visione dell'oggetto era stata sufficiente a gettare gli uomini di scienza agli riuniti in uno stato di acuta eccitazione Costoro non persero tempo ad affollarglisi attorno per osservare la minuscola statuetta la cui stranezza assoluta e l'area genuina di antichità abissale alludevano con tanta forza prospettive archeologiche inesplorate Nessuna scuola di scultura nota aveva creato quel terribile oggetto ma centinaia e perfino migliaia d'anni sembravano segnati sulla superficie offuscata e verdastra di quella figura inclassificabile La statuetta, che fu infine fatta passare di mano in mano per uno studio più ravvicinato e attento era alta tra i 18 e i 20 centimetri ed era l'isquisita fattura artistica Rappresentava un mostro dal profilo vagamente antropoide ma con una testa da piovra la cui faccia era un ammasso di tentacoli un corpo squamoso ed elastico artigli prodigiosi alle zampe posteriori e anteriori ed un paio di strette ali sul dorso Quella cosa che sembrava permeata di una malvagità spaventosa e perfida era grossa ed enfia ed era acquattata malignamente su un blocco rettangolare o piedistallo coperto di caratteri indecifrabili Le punte delle ali toccavano il bordo posteriore del blocco ed il corpo ne occupava il centro mentre i lunghi artigli delle zampe posteriori ripiegate e rannicchiate afferravano il bordo davanti e si allungavano verso il fondo del piedistallo La testa cefalopoda era china in avanti cosicché le estremità dei tentacoli facciali sfioravano il resto delle enormi zampe anteriori che stringevano le ginocchia poste in alto L'aspetto generale era anormalmente vivo e ancora più sottilmente spaventoso perché la sua fonte era così totalmente sconosciuta La sua antichità, profonda, spaventosa ed incalcolabile, era innegabile Eppure non mostrava nessun legame con alcun tipo noto di arte appartenente agli albori della civiltà o in vero ad alcuna epoca Del tutto alieno e singolare, il materiale che la componeva era un mistero Infatti quella pietra untuosa, nero, verdastra con macchie estriature dorate o iridescenti non somigliava a nulla di noto in geologia o in mineralogia I caratteri lungo la base erano egualmente enigmatici e nessuno dei presenti, nonostante la folta rappresentanza della metà degli esperti di tutto il mondo in quel campo poté formulare la benché minima ipotesi nemmeno sulle loro più lontane parentelle linguistiche Quei caratteri, così come il soggetto, il materiale appartenevano a qualcosa di orribilmente remoto e distinto dal genere umano così come lo conosciamo noi qualcosa che alludeva spaventosamente agli antichi ed empi cicli di vita il cui nostro mondo e le nostre concezioni non facevano parte eppure, mentre i membri ad uno ad uno scuotevano il capo e confessavano la loro resa davanti al problema posto dall'ispettore ci fu un uomo in quella riunione a cui parve di vedere un tocco di bizzarra familiarità in quella forma mostruosa ed in quella scrittura e che cominciò a comunicare con una certa timidezza le scarne e strane informazioni di cui era a conoscenza Questa persona era il defunto William Channing Webb professore di antropologia alla Princeton University ed esploratore di non poca fama Il professor Webb, 48 anni prima aveva compiuto una spedizione in Groenlandia e in Islanda di alcune iscrizioni runiche che non era riuscito a portare alla luce Mentre si trovava al nord, sulla costa della Groenlandia occidentale aveva incontrato una singolare tribù o setta di eschimesi degenerati la cui religione o strana forma di adorazione del demonio lo aveva agghiacciato con una turata sete di sangue e con la sua repellenza Era una fede di cui gli altri eschimesi sapevano poco e dalla quale si riferivano solo rabbrividendo dicendo che era nata in eoni terribilmente antichi prima che il mondo fosse creato Oltre ai riti innominabili e di sacrifici umani c'erano alcune strane formule rituali rivolte ad un demone supremo o Tornasuk e di queste il professor Webb aveva fatto un'accurata trascrizione fonetica ascoltando un anziano Angekok o Stregone e ne aveva espresso i fonemi quanto meglio poteva ma in quel momento di importanza preminente era il feticcio che quel culto venerava e intorno al quale i fedeli danzavano quando l'aurora rimbalzava sui pendì di ghiaccio Era, affermò il professore un rozzissimo basso rilievo di pietra che comprendeva una figura e dei caratteri enigmatici per quanto li constatava somigliava in tutti i tratti essenziali alla cosa bestiale che in quel momento era sotto gli occhi di tutto il consesso Questi dati accolti con ansia e stupore dagli studiosi riuniti si rivelarono ancora più sconvolgenti per l'ispettore Legras che cominciò ad incalzare di domande il suo informatore visto che aveva annotato e copiato una rituale formula orale in uso presso gli adoratori della palude che i suoi uomini avevano arrestato egli sollecitò il professore di ricordare il meglio possibile le parole raccolte presso gli adoratori eschimesi del diavolo allora seguì un confronto esauriente dei particolari è un momento di silenzio riverente quando sia l'investigatore sia lo scienziato convennero sulla virtuale identità delle frasi comuni ai due riti demoniaci posti a mondi di distanza l'uno dall'altro quello che, in sostanza sia gli stregoni eschimesi sia i sacerdoti della Louisiana cantavano i loro venerati idoli suonava più o meno così Pnglui Mgnaf Cthulhu Rliya Vaganagl Ftangn la divisione delle parole era stata eseguita sulla base delle pause tradizionali fatte quando la frase veniva cantata Legras aveva un punto di vantaggio rispetto al professor Webb perché parecchi dei suoi prigionieri meticci gli avevano ripetuto il significato di quelle parole che era stato loro detto dagli adoratori più anziani la traduzione aveva più o meno questo tenore nella sua dimora di Rliya il morto Cthulhu la sperta sognando e allora in obbedienza alla pressante richiesta generale l'ispettore Legras riferì nel modo più particolareggiato la sua esperienza con gli adoratori della palude e raccontò una storia alla quale compresi che mio zio aveva attribuito un significato profondo aveva il sapore dei sogni più folli dei creatori dei miti e dei teosofi e svelò un livello stupefacente di immaginazione cosmica in quei meticci e pari a quale nessuno si sarebbe mai aspettato che possedessero il primo novembre 1907 alla polizia di New Orleans era prevenuto un convulso appello dalla regione lagunare palustre che si trovava a sud i coloni che vi dimoravano generalmente primitivi ma miti discendenti degli uomini di Lafitte erano stretti in una morsa di terrore provocato da una cosa sconosciuta che nella notte si era avvicinata furtivamente al loro villaggio era un voodoo evidentemente ma il voodoo più terribile che avessero mai conosciuto e alcune delle loro donne e dei loro bambini erano scomparsi da quando quel malefico Tam Tam aveva cominciato il suo incessante rullio nei boschi neri ed infernali in cui nessun abitante si avventurava si sentivano urla folli grida strazianti canti agghiaccianti e si vedevano fuochi fatui danzanti e aggiunse l'impaurito messaggero la gente non ce la faceva più a sopportarlo di conseguenza un gruppo di venti poliziotti a bordo di due autocarri e un'auto si erano avviati nel tardo pomeriggio sotto la guida del tremante colono alla fine della strada praticabile avevano lasciato le vetture e per miglia avevano sguazzato in silenzio tra i terribili boschi di cipressi in cui la luce del giorno non arriva mai radici deformi e maligni cappi di rampicanti penzolanti li assediavano e di tanto in tanto un cumulo di pietre umide e di frammenti di un muro putrefatto con la loro allusione a morbosi abitanti intensificavano lo scoramento che ogni albero deforme ed ogni isolotto di funghi ammuffiti contribuiva a creare alla fine l'insediamento dei coloni un miserabile mucchio di capanne apparve all'orizzonte e gli isterici abitanti corsero fuori a raccogliersi intorno al gruppo di lanterne ondeggianti il rullo soffocato di tam tam era appena percettibile lontano molto lontano e di tanto in tanto arrivavano grida agghiaccianti quando il vento cambiava anche un bagliore rossastro sembrava filtrare attraverso il pallido sottobosco al di là delle infinite vie della foresta notturna riluttanti perfino ad essere lasciati soli tutti gli atterriti coloni rifiutarono categoricamente di avanzare anche di un solo centimetro verso il luogo dell'empia adorazione perciò l'ispettore Legras e i suoi 19 colleghi si immersero senza guida in quel nero colonnato d'orrore che nessuno di loro aveva mai attraversato prima la zona in cui si addentrarono i poliziotti aveva per antica tradizione una reputazione diabolica ed era in sostanza ignota ai bianchi che non l'avevano mai attraversata c'erano leggende che parlavano di un lago nascosto mai visto da occhi umani e nel quale dimorava una enorme piovra bianca ed informe con occhi luminosi inoltre i coloni sussurravano che demoni dalle ale di pipistrello volavano fuori dalle caverne sotterranee per adorarlo a mezzanotte dicevano che era lì da prima Timberville prima di Les Halles prima degli indiani e perfino prima degli animali e degli uccelli dei boschi era l'incubo incarnato e vederlo significava morire ma provocava sogni negli uomini e così essi ne sapevano abbastanza da tenersene lontani l'orgia voodoo aveva luogo proprio ai margini estremi di quella zona abborrita ma il posto era già di per sé sufficientemente pauroso perciò forse il luogo dell'adorazione aveva terrificato i coloni più dei rumori sconvolgenti e degli ultimi avvenimenti solo i poeti o i folli potrebbero descrivere con precisione i rumori uditi dagli uomini di Les Grasses mentre si facevano strada nel nero acquitrino verso il bagliore rosso ed il rullio soffocato dei tam tam ci sono qualità vocali peculiari agli uomini e qualità vocali peculiari agli animali ed è terribile riconoscere le une in qualcosa che dovrebbe produrre le altre la furia animalesca e la sfrenatezza orgiastica aumentavano fino ad un culmine demoniaco con ululati e grida estatiche che squarciavano il buio e si riverberavano nei boschi simili a tempeste pestilenziali provenienti dagli abissi dell'inferno ogni tanto gli ululati cessavano e da quello che sembrava un coro ben addestrato di voci aspre si alzava un canto monotono quella orrenda frase o formula rituale poi i polizotti raggiunto un posto in cui gli alberi erano meno fitti si trovavano improvvisamente davanti lo spettacolo quattro di essi vacillarono uno svenne e due lanciarono urla frenetiche che la folle cacofonia dell'orgia fortunatamente soffocò le grasse spruzzò un po' d'acqua della palude sulla faccia dell'uomo svenuto e tutti restarono tremanti e ipnotizzati dall'orrore in una radura naturale c'era un'isola erbosa di circa un acro di estensione sgombra di alberi e sufficientemente asciutta su quell'isola balzava e si contorceva un'orda indescrivibile di esseri umani abnormi che solo un sime o un'angarola avrebbero potuto dipingere privi di abiti quegli ibridi ragliavano strillavano e si dimenavano intorno ad un mostruoso falò circolare nel centro del quale rivelato da occasionali squarci nella cortina di fiamme si ergeva un grande monolito di granito alto circa due metri e mezzo sulla cui cima incongrua nella sua piccolezza c'era la statuetta da un ampio circolo di dieci forche sistemate ad intervalli regolari con il monolito cinto di fiamme al centro a testa in giù pendevano i corpi stranamente martoriati degli inermi coloni che erano scomparsi era all'interno di questo circolo che l'anello di adoratori balzava e urlava e la direzione generale del movimento si spostava da sinistra a destra in un baccanale interminabile tra l'anello costruito dai cadaveri e l'anello di fuoco forse fu solo l'immaginazione o forse furono solo gli echi che indussero uno degli uomini un eccitabile spagnolo a credere di aver sentito delle risposte antifonali al rituale provenire da un punto lontano e buio nella parte più interna di quel bosco gravido di leggende e di orrori antichi quell'uomo Joseph di Galvez lo in seguito conosciuto e interrogato si è rivelato fantasioso fino alla confusione mentale è arrivato al punto di alludere al flebile battito di grandi ali e dalla fugace visione di occhi scintillanti e di una massa bianca e grande come una montagna al di là degli alberi più lontani ma credo che avesse sentito troppe leggende indigene in realtà il momento di pausa dei poliziotti provocato dall'orrore fu di durata relativamente breve il dovere veniva prima di ogni cosa e sebbene dovessero esserci un centinaio di adoratori meticci in quella moltitudine i poliziotti si affidarono alle loro armi da fuoco e piombarono con determinazione su quella folla nauseante per cinque minuti lo strepito ed il caos che ne risultavano furono al di là di ogni descrizione vennero assestati colpi violenti furono sparate pallottole e qualcuno fuggì ma alla fine legrasse poté contare 47 prigionieri che costrinse a vestirsi in tutta fretta ed a mettersi in fila tra due schiere di poliziotti cinque adoratori erano morti e due feriti gravemente venivano trasportati su barelle improvvisate dai loro compagni di prigionia la scultura che era sul monolito naturalmente fu rimossa con cura e portata via dalle grasse interrogati al quartier generale dopo un viaggio di grande fatica e tensione i prigionieri si rivelarono tutti uomini di sangue misto e naturalmente abberranti la maggior parte era composta di marinai e un gruppetto di negri e mulatti in gran parte provenienti dalle indie occidentali dalla costa brava o dalle isole di capoverde dava una sfumatura voodoo a quel culto eterogeneo ma dopo poche domande divenne chiaro che il fatto si trattava di qualcosa di molto più profondo e antico del feticismo negro per quanto fossero degradate e ignoranti quelle creature si attennero con una coerenza sorprendente all'idea centrale della loro religione disgustosa essi adoravano così dissero i grandi antichi che vivevano da secoli prima della nascita dell'umanità e che erano scesi sul giovane pianeta dal cielo questi antichi erano poi scomparsi sotto la terra e sotto il mare ma i loro corpi morti avevano narrato in sogno i loro segreti al primo uomo che aveva creato un culto che non era mai morto questo era quel culto e i prigionieri dissero che era sempre esistito e che sarebbe sempre esistito nascosto in terre selvagge e lontane di luoghi oscuri in tutto il mondo finché sarebbe arrivato il giorno in cui il grande sacerdote Cthulhu dalla sua oscura dimora nella potente città di Relia sotto le acque sarebbe sorto ed avrebbe riportato la terra sotto il suo dominio un giorno egli avrebbe chiamato quando le stelle sarebbero state pronte e i suoi adepti rimasti sempre in attesa lo avrebbero liberato intanto non si doveva dire null'altro c'era un segreto che nemmeno la tortura poteva estorcere gli esseri umani non erano affatto i soli esseri coscienti della terra c'erano forme che uscivano dalle tenebre per visitare i pochi fedeli ma queste non erano i grandi antichi nessun uomo aveva mai visto i grandi antichi la statuetta rappresentava il grande Cthulhu ma nessuno poteva sapere se gli altri erano uguali a lui nessuno era più in grado di leggere quella scrittura antica ma alcune storie venivano tramandate oralmente il rituale cantato non era il segreto quello non veniva mai pronunciato a voce alta solo sussurrato il canto significava solo questo nella sua dimora di Relia il morto Cthulhu aspetta sognando solo due dei prigionieri furono trovati abbastanza sani di mente da essere impiccati gli altri furono affidati ai vari ospedali e psichiatrici tutti negarono di aver preso parte agli omicidi rituali e asserirono che le uccisioni erano state opera delle creature dalle ali nere che erano arrivate dal loro innominabile luogo di riunione nel bosco infernale ma su quei misteriosi alleati non si riuscì ad ottenere nessuna informazione coerette quello che la polizia riusciva a distorcere proveniva principalmente da un meticcio immensamente vecchio di nome Castro che affermava di aver navigato fino a strani porti e di aver parlato con i capi immortali del culto tra le montagne della Cina il vecchio Castro ricordava frammenti di orride leggende che facevano impallidire le speculazioni dei teosofi e facevano sembrare gli uomini ed il mondo recenti ed effimeri c'erano stati eoni in cui altri esseri governavano la terra ed essi avevano avuto grandi città quel che resta di essi gli avevano detto gli immortali cinesi si poteva ancora trovare sotto forma di pietre ciclopiche sulle isole del Pacifico erano tutti morti ere ed ere prima della venuta dell'uomo ma c'erano arti nascoste che avrebbero potuto farli rivivere quando le stelle fossero ritornate nelle giuste configurazioni nel ciclo dell'eternità anche essi in verità erano venuti dalle stelle e avevano portato le loro immagini con sé questi grandi antichi aveva continuato Castro non erano affatto composti di carne e sangue avevano una forma e quella statuetta affoggiata tra le stelle non lo provava ma quella forma non era fatta di materia quando le stelle erano nelle giuste configurazioni essi potevano balzare da un pianeta all'altro attraverso il cielo ma quando le stelle erano nelle configurazioni sbagliate non potevano vivere comunque sebbene non vivessero più non sarebbero mai veramente morti tutti giacevano nelle loro dimore di pietra nella grande città di Ralia protetti dagli incantesimi del potente Cthulhu in attesa della gloriosa resurrezione quando le stelle e la terra fossero stati di nuovo ponte per loro ma quel giorno una forza dall'esterno era necessaria per liberare i loro corpi gli incantesimi che li conservavano intatti allo stesso tempo impedivano loro di fare la mossa iniziale per cui potevano solo giacere desti nel buio e pensare mentre innumerevoli milioni di anni passavano sapevano tutto quello che accadeva nell'universo perché comunicavano attraverso il pensiero perfino in quel momento stavano parlando nelle loro tombe quando dopo infiniti anni di caos erano arrivati i primi uomini i grandi antichi avevano parlato i più sensibili fra loro penetrando nei loro sogni perché solo in quel modo il loro linguaggio riusciva a raggiungere elementi corporee dei mammiferi allora aveva bisbigliato Castro quei primi uomini avevano creato il culto intorno a piccoli idoli che i grandi antichi avevano loro mostrato idoli portati in ere tenebrose da quelle oscure stelle quel culto non sarebbe mai morto fino a che le stelle non fossero ritornate nelle giuste configurazioni e i sacerdoti segreti avessero preso il grande Cthulhu dalla tomba per far rivivere i suoi sudditi e fargli riprendere il dominio della terra sarebbe stato facile capire quando fosse arrivato il momento perché allora il genere umano sarebbe diventato come i grandi antichi libero sfrenato e al di là del bene e del male avrebbe gettato le ortiche leggi e morale e tutti avrebbero urlato ucciso e gioito allora gli antichi ormai liberi avrebbero loro insegnato nuovi modi di gridare uccidere gioire e divertirsi e tutta la terra avrebbe fiammeggiato un olocausto di estasi e libertà nel frattempo il culto con i riti appropriati doveva tenere vivo il ricordo di quelle antiche usanze preannunciare il loro ritorno nei tempi antichi uomini eletti avevano parlato in sogno con gli antichi sepolti nelle loro tombe ma poi era accaduto qualcosa la grande città di pietra di relia con i suoi monoliti e sepolcri era sprofondata nel mare e le acque profonde colme dell'unico mistero primigenio che nemmeno il pensiero può attraversare avevano interrotto quel contatto spirituale ma il ricordo non era mai morto e gli alti sacerdoti dicevano che la città sarebbe riemersa quando le stelle fossero state nelle giuste configurazioni poi erano usciti gli spiriti neri della terra ammuffiti tenebrosi e circondati da oscure dicerie erano andati a vivere in caverne al di sotto di obliati fondi marini ma di loro il vecchio castro non osava parlare molto si interruppe immediatamente e nella persuasione nell'astuzia riuscirono a strappargli qualche altra notizia su quell'argomento stranamente si rifiutò anche di parlare delle dimensioni degli antichi del culto disse che riteneva che il suo centro si trovasse nei deserti inesplorati dell'Arabia dove Irem la città delle mille colonne sogna celata e intatta non era affiliato alla stregoneria europea ed in pratica era sconosciuto alla quasi totalità dei suoi membri nessun libro ne aveva mai veramente parlato sebbene gli immortali cinesi dicessero che c'erano passi ambigui del necronomicon dell'arabo pazzo Abdul Al-Hazred che gli iniziati potevano leggere come volevano soprattutto il discusso distico non è morto ciò che può vivere in eterno e in strani eoni anche la morte può morire Legras profondamente impressionato e stupito non poco aveva indagato in vano riguardo alle affiliazioni storiche del culto Castro evidentemente aveva detto la verità quando aveva affermato che era totalmente segreto le autorità della Tulane University non avevano potuto gettare alcuna luce né sul culto né sulla statuetta e allora l'investigatore si era rivolto alle più eminenti autorità del paese e non aveva trovato altro che il racconto groenlandese del professor Webb interesse febbrile destato durante la riunione della storia di Legras abballorata com'era dalla statuetta si rispecchia nella successiva corrispondenza di coloro che vi parteciparono sebbene nelle pubblicazioni ufficiali ne ricorrono poche citazioni la prudenza è la prima preoccupazione per chi è abituato ad affrontare occasionalmente la charlataneria e l'impostura Legras per qualche tempo prestò la statuetta al professor Webb ma alla morte di quest'ultimo essa gli fu restituita ed è tuttora in suo possesso non molto tempo fa l'ho vista è veramente una cosa terribile e innegabilmente somiglia alla scultura onirica del giovane Wilcox che mio zio fosse citato dal racconto dello scultore non me ne meraviglio infatti quali dovevano essere i suoi pensieri nel sentire dopo aver appreso quello che Legras sapeva del culto di un giovane sensitivo che aveva sognato non solo la figura e i geroglifici della statuetta trovata nella palude e del basso rilievo groenlandese ma che in sogno aveva udito almeno tre delle parole della formula pronunciata sia dagli adoratori del diavolo eschimesi sia dai meticci della Louisiana il fatto che il professor Angel avesse immediatamente dato inizio ad un'indagine esauriente era naturalissimo sebbene io personalmente sospettassi che il giovane Wilcox di aver saputo del culto attraverso qualche via indiretta e di aver inventato una serie di sogni per ingigantire e tener vivo il mistero a spese di mio zio i sogni e i ritagli di giornale raccolti dal professore naturalmente avvaloravano con forza quella storia ma il razionalismo della mia mente e la stravaganza del tutto mi portarono alle conclusioni che ritenevo più sensate di conseguenza dopo aver riletto accuratamente il manoscritto ed aver messo in correlazione gli appunti teosofici e antropologici con il resoconto del culto fatto dalle Grasse feci un viaggio a Providence per incontrare lo scultore e rivolgergli l'aspro rimprovero che ritenevo fosse doveroso per aver tanto impudentemente imbrogliato un uomo colto e anziano Wilcox viveva ancora da solo nel Fleur de Lis Building in Thomas Street un'orrenda imitazione vittoriana dell'architettura bretone del XVII secolo che ostentava gli stucchi della sua facciata tra le graziose case coloniali dell'antica collina e all'ombra del più bel campanile georgiano d'America lo trovai intento a lavorare nel suo appartamento e subito a giudicare dagli esemplari sparsi in tutto intorno ammisi che il suo genio era veramente profondo e autentico lui un giorno sarà famoso credo come uno dei più grandi decadenti perché affermato nell'argilla e un giorno trasformerà nel marmo quegli incubi e quelle fantasie che Arthur Maken evoca nella prosa e Clark Ashton Smith nella poesia e nella pittura scuro fragile e di aspetto alquanto scarmigliato al mio bussare egli si girò languidamente e mi chiese che cosa volessi senza alzarsi quando gli dissi chi ero mostrò un certo interesse infatti mio zio aveva destato la sua curiosità indagando sui suoi strani sogni ma non gli aveva mai spiegato le ragioni di quello studio io non ampliai le sue conoscenze al riguardo ma cercai con una certa astuzia di farlo parlare in breve mi convinsi della sua assoluta sincerità perché parlò dei sogni in una maniera esplicita e inequivocabile quei sogni e i loro residui subconsci avevano influenzato profondamente la sua arte e mi mostrò una statua morbosa i cui contorni miscossero per la potenza delle loro misteriose allusioni egli non ricordava di aver visto l'originale di quella cosa se non nel suo bassorilievo onirico ma la figura si era formata inconsciamente sotto le sue mani era senza alcun dubbio la sagoma gigantesca di cui aveva parlato in delirio fu subito chiaro che non sapeva veramente nulla del culto segreto se non quello che l'inesorabile interrogatorio di mio zio aveva lasciato capire e ancora mi sforzai di pensare in quale modo avesse potuto ricavare quelle bizzarre forme parlò dei suoi sogni in una maniera stranamente poetica che mi fece vedere con terribile vividezza la stillante città ciclopica divisci da pietra verde la cui geometria disse stranamente era tutta errata e mi fece sentire con ansia e paura l'incessante richiamo mentale che proveniva da sottoterra cthulhu fettagne cthulhu fettagne quelle parole facevano parte della terribile formula rituale che parlava dell'attesa sognante del morto cthulhu nella sua critta di pietra relia ed io mi sentì scosso fin nel profondo nonostante le mie credenze razionali wilcox nero certo aveva saputo del culto in qualche modo casuale e l'aveva presto dimenticato nella massa delle sue letture e delle sue fantasie altrettanto bizzarre in seguito solo in virtù della sua capacità impressiva esso aveva trovato espressione subconscia nei suoi sogni nel basso rilievo e nella terribile statua che stavo guardando cosicché egli aveva imbrogliato mio zio in modo del tutto innocente il giovane era un tipo nello stesso tempo lievemente affettato e lievemente sgarbato che mai mi sarebbe potuto piacere ma ero ormai disposto ad ammettere sia il suo genio sia la sua onestà presi congedo da lui amichevolmente e gli augurai tutto il successo che il suo talento prometteva l'oggetto del culto continuava ad affascinarmi e a volte fantasticavo di diventare famoso grazie alle mie ricerche sulle sue origini e connessioni andai a New Orleans dove parlai con le grass e con altri che avevano partecipato a quella vecchia spedizione vidi la spaventosa statuetta e interrogai perfino i prigionieri meticci che erano ancora in vita il vecchio Castro purtroppo era morto da alcuni anni i vividi racconti che udì di prima mano sebbene non fossero più una conferma particolareggiata di quello che aveva scritto mio zio mi accitarono nuovamente infatti ero certo di essere sulle tracce di una religione vera segretissima e molto antica la cui scoperta mi avrebbe reso un antropologo di fama il mio atteggiamento era ancora improntato ad un materialismo assoluto come vorrei lo fosse ancora e con inspiegabile perversione sminuì l'importanza del parallelismo tra i racconti dei sogni e gli altri strani ritagli raccolti dal professore Angel una cosa che cominciai a sospettare e che ora temo di sapere è che la morte di mio zio fosse lontana dall'essere naturale era morto su una stretta salita che partiva da un'antica banchina brulicante di mezzo sangue stranieri dopo essere stato sbadatamente spinto da un marinaio negro non avevo dimenticato il sangue misto e le abitudini marinare dei membri del culto in Louisiana e non sarei stato sorpreso di apprendere dei metodi segreti e aghi abbelenati crudeli ed antichi quanto quei riti e quelle credenze enigmatiche le grassi e i suoi uomini sono stati lasciati in pace ma in Norvegia un certo marinaio che aveva visto qualcosa è morto non era possibile che le indagini più approfondite di mio zio dopo il suo incontro con lo scultore fossero arrivate ad orecchie pericolose io credo che il professor Angel sia morto perché sapeva troppe cose o perché pensavano che sapesse troppo resta da vedere se anch'io farò la sua stessa fine perché ormai sono molte cose che sapeva Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.